fidanzatini contro sciacalli questa è la finale iniziamo con rita contro aurora 3 2 1 via dovete muovervi ragazzi fai rita vai alzati alzati 5 secondi alzati rita rosi ci ha fatto il pensiero è telepatica 5 4 3 2 1 rita rosec vince la prima maschera cristiano contro 3 2 1 via 5 4 3 2 1 giù giù vince a fru vince a fru turchia concorrenti ci siamo sta per partire la finalissima e cioè rita contro fru 3 2 1 via equilibrio equilibrio io sono assolutamente catalizzato da questo match vince la prova immunità la coppia degli sciacalli prima prova immunità vinta finalmente la pausa ovviamente grazie alla mia forza bruta che ha distrutto tutti la mia stella il mio toro oddio come sta rita mi dispiace dottore rita perdona mi discusami tranquilla tranquilla fru non ha avuto pietà è stato spietato rita stai bene rita tutto bene grazie a me grazie a me mi dispiace no perché mi ha dato tre volte la botta qua mi dispiace però è la cazzina non sono così non mi piace è la cazzina è la cazzina è la cazzina no tre volte mi hai preso qua mi hai fatto male